Radio Radicale, eccoci all'appuntamento con la settimana informatica con Stefano Quintarelli. Il primo punto che vogliamo toccare questa settimana è quello che è successo a Intesa San Paolo, che ha gettato nel panico nuovamente il mondo politico. Questo funzionario dipendente di Intesa San Paolo spiava i conti e li spiava molto frequentemente. Non c'è stato nessun alert all'interno della banca rispetto all'attività di questo signore che per ora non è accertato che abbia dei complici, però secondo alcuni li ha. Che cosa ci insegna questa vicenda al di là dello scandalo relativo agli spiati? Intanto un saluto a tutti. Ma che cosa ci insegna? Ci insegna che forse sappiamo poco di cose digitali e che ci spaventiamo, ci scandalizziamo per dei comportamenti che appaiono strani quando questi comportamenti hanno una scala molto grande. Quando ero studente, Internet era composta da qualche migliaio di computer, qualche decina di migliaia di computer, con il benestare dell'allora direttore del Dipartimento Giovanni degli Antoni, un gruppetto di studenti con cui ci occupavamo di sicurezza informatica, avevamo fatto un software che doveva andare a verificare se dei sistemi potevano potenzialmente essere aperti a delle vulnerabilità. Era come l'equivalente, se vogliamo fare un parallelo un po' forzato, di andare in un albergo, provare a spingere le porte, vedere se la porta si apre ma non entrare nella camera, solo per vedere se le porte sono aperte. Questa cosa doveva essere limitata all'Italia. Per un errore nel software, invece di essere limitata ai server italiani, è andata anche sui server americani, sui server di tutto il mondo. Internet a quel punto era piccola, per cui in realtà è scandagliato più o meno tutti i server che c'erano in Internet, la cui maggioranza però erano del Dipartimento della Difesa americano, ed era la vigilia di Desert Storm. E quindi gli americani si sono galvanizzati non poco quando hanno visto un comportamento di questo genere che non capivano. Perché se uno prova una volta ad entrare, a bussare, a spingere una porta, a vedere se è aperta, senza entrare, all'epoca non c'era niente sulla criminalità informatica, cioè non c'erano neanche i concetti di questa cosa, dell'accesso a sistemi, eccetera. E a seguito di quell'atto poi invece nacquero dei gruppi di studio, in seno anche a CNR, eccetera, e nacquero tutta una serie di casistiche, di comportamenti da mettere sotto scrutinio. Comunque quello che voglio dire è che non c'era assolutamente nessuna malizia, nessuno aveva cercato di nascondersi, tra te che abbiamo ricevuto subito le comunicazioni da parte del Ministero della Difesa americano. È stata una cosa che ha insegnato tanto a tanti e anche qualcuno è venuto un esaurimento nervoso. Ma non c'era nulla, non c'era una seconda intenzione. Anche qui io ho fatto dei conti, perché questi accessi ai dati sono avvenuti nel corso di molti anni. Io ho fatto un conto a spanne e in pratica è come se questa persona fosse andata a guardare tre, quattro volte al giorno a guardare i conti dei correntisti di intesa. Allora, io non so se esiste, perché non me ne intendo di banche, non so se esiste un legittimo motivo per cui un dipendente di una filiale possa accedere a visualizzare i dati dei conti correnti di un qualunque correntista. Beh, penso che lo possa fare se per esempio io vengo da fuori sede a fare un'operazione sul mio conto in un'altra filiale e la persona che deve autorizzare quell'operazione magari allo sportello è costretto ad entrare nel mio conto per vedere se sono io a fare quell'operazione e mi chiede il documento. Quindi era una modica quantità che si è accumulata nel corso di molti anni fino ad assumere una mola assolutamente molto rilevante. La cosa è che non c'era un'esigenza di servizio e io non so se i contratti perché ripeto non me ne intendo non so se i contratti con i dipendenti prevedono il fatto di immagino di sì il divieto di andare a ficcare il naso a guardare i conti delle altre delle persone se non per esigenze di servizio. Immagino che lo prevedano tant'è che la persona mi risulta da quello che ho letto è stata licenziata e c'è un detto dice non attribuire a malizia ciò che può essere spiegato con la stupidità. Io penso che siamo in questo campo qui cioè era un ficcanaso uno dei più classici curiosoni che nel corso di anni aveva come cosa magari mentre beveva il caffè andava a vedersi i movimenti del mio conto corrente o del tuo così per curiosità quando questa roba poi è arrivata ad essere notata ha detto cavoli ma quanti ne hai fatti poi ha toccato delle persone particolarmente esposte ed è successo il bubone cioè io non non so immagino che tutte le regole siano state rispettate ed immagino perché le banche hanno dei dei controlli che sono esasperati su tutto per cui immagino che in principio non ci sia niente forse potrebbero fare una regola per cui quando devi accedere ai conti di un'altra persona l'esempio che facevi tu quando vado in uno sportello fuori sede che non sia solo l'operatore a farlo ma che debba chiedere il contributo di un altro operatore ed essere in due come fanno i carabinieri che vanno sempre in due questa cosa sicuramente consente di limitare comportamenti di questo genere a meno di non trovare due curiosoni che dicono andiamo a vedere i movimenti una cosa che non ho capito è come sia stato possibile guardare i conti di Silvio Berlusconi post mortem pensavo che fossero chiusi i conti però dicevano anche i conti di Silvio Berlusconi insomma mi sembra Silvio Berlusconi è morto circa un anno fa quindi non so magari avrà guardato le ultime movimentazioni di Silvio Berlusconi in banca nel giugno del 2023 è morto Berlusconi in rega sì non lo so insomma comunque immagino che possano essere messi in atto dei comportamenti che limitino la possibilità di una persona di andare a ficcare il naso per motivi non di servizio forse questo fatto questa banale idea di dire avere l'autorizzazione da due perché è chiaro che se tu vai allo sportello hai bisogno di fare un'operazione e sei fuori sede e se non te la fanno ti incavoli anche che non sia solamente soggetto alla volontà di una persona ma alla disponibilità di una persona ma magari di due questo consentirebbe di limitare però io credo che alla fine ripeto facendo il conto sul numero di cose sono tipo 3-4 al giorno io ho conosciuto ho conosciuto persone in piccione che quando eravamo all'università andavano a farsi gli affari degli altri ficcando il naso nelle directory degli altri utenti era cioè in piccioni ce ne sono sempre stati credo che da questa occasione che appunto rappresenta un po' una discontinuità per la dimensione per la rilevanza per la visibilità che ha avuto come fu nel caso di quello che accadde 40 anni fa o giù di lì 35-40 anni fa possa essere di possa insegnarci qualcosa su come migliorare le procedure certo ammesso che non abbia passato questi dadi a qualcun altro ma magari ne parlava con gli amici al bar può darsi se scopriva qualcosa di proriginoso magari ne parlava con gli amici al bar ho capito allora io passerei dallo spione di Intesa San Paolo al robotaxi di Elon Musk allora Musk ha presentato un robotaxi avveniristico il risultato è stato cioè l'abbiamo visto in borsa che cosa c'è che non ha funzionato sì allora il titolo ha perso credo l'8% in borsa dopo la presentazione di questo robotaxi ho fatto vedere queste 20 auto che sono arrivate sulla scena a Los Angeles mi sembra era Los Angeles la verità è che non sappiamo se c'erano dei guidatori remoti ovvero quanti erano i guidatori remoti di quella cosa noi continuiamo a chiamarli robotaxi con l'idea che siano dei robot che vanno in giro ma non sono dei robotaxi sono dei taxi droni cioè c'è qualcuno che interviene da remoto sulle situazioni semplici sono in grado di andare loro poi sulle situazioni complicate invece no ma direi il lupo perde il pelo ma non il vizio è il lupo della Silicon Valley nel senso che è già credo che se non ricordo male è indagato e forse addirittura sotto processo o c'è un'indagine oppure c'è addirittura un processo forse c'è solo un'indagine per con delle ipotesi di truffa per le dichiarazioni fatte sulla guida autonoma perché nel 2014 Masca ha cominciato a dire comprate le mie macchine che l'anno prossimo ci sarà la guida autonoma molto probabilmente poi l'anno dopo quest'anno no però quasi sicuramente l'anno prossimo sì pagate il supplemento per avere la guida autonoma e tu paghi il supplemento lo paghi 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 passano gli anni e la guida autonoma non c'è e non arriva e anche qui c'era uno studio mi pare che fosse di Goldman Sachs che attribuiva più di metà o circa metà del valore di Tesla in borsa alla guida autonoma e alla funzione di robotaxi cioè il fatto di poter prendere tutte le macchine e fare una flotta di taxi cioè l'idea è seducente l'idea è tu compri quella macchina lì visto che la usi per andare al lavoro e poi non la usi più durante il giorno durante il giorno quella macchina fa da taxi per gente che ce n'ha bisogno quindi affitti la tua macchina e quindi la metti a reddito tu compri la macchina la usi per i fatti tuoi e quando non la usi la metti a reddito e questa possibilità dovrebbe essere attivata semplicemente con un aggiornamento software fatto via rete la verità è che appunto sono passati dieci anni da quando ho cominciato a dire questa cosa questa roba non c'è adesso ho presentato questi taxi dicendo per adesso non ci sono ci saranno anche qui non ha specificato quando però la verità è che i taxi autonomi tali non sono sono dei droni poi per raggiungere un po' di colore ha usato i suoi robot umanoidi che sono dei robot che si omigliano a quelli del film io robot molto evocativo poi il tutto si svolgeva in un cinema quindi il richiamo a Hollywood è molto forte che mescolavano dei liquori dei cocktail poi è venuto fuori che anche qui la realtà è che questi erano comandati da una persona remota quindi erano letteralmente dei droni che facevano i gesti c'erano degli operatori remoti che facevano i gesti sono le solite cose molto affascinanti che solleticano l'immaginario delle persone però qui il fatto nuovo è che la borsa ha reagito negativamente cioè la capitalizzazione il valore in borsa di Tesla è talmente alto che tutti sono interessati a che il titolo vada bene perché tutti ce l'hanno un pezzettino tutte le grandi banche i grandi fondi eccetera e ci sarà qualcuno che comincia a vendere un po' alla volta e poi potrà vedremo cosa capiterà perché comunque queste cose l'anno prossimo non le vedremo l'anno dopo nemmeno e se le vediamo sicuramente avranno dei costi esorbitanti sostenuti per lo più solo per fini di marketing perché se devi mettere degli ingegneri remoti rispetto all'autista di Uber vabbè non c'è partita come costi insomma la cosa è che il fatto nuovo è che il titolo ha perso ed è una correzione ed è una correzione interessante perché segno che qualcuno non è più così carico cioè che c'è qualcuno che non è più così carico di azioni Tesla che non ha più un interesse nel mantenere nel mantenersi in questa partita c'è da dire anche che ci sono sempre più segnali del fatto che siamo in una bolla dell'intelligenza artificiale intelligenza artificiale che si usa appunto per fare robot taxi robot eccetera e che se anzi dal mio punto di vista quando arriverà una correzione in borsa dell'intelligenza artificiale toccherà tutti i grossi titoli a maggiore capitalizzazione e sarà e sarà una botta e lì ci sarà un sarà una botta perché il le cinque aziende tecnologiche più grandi valgono più della metà o circa la metà adesso a seconda del giorno della capitalizzazione della borsa di New York del New York Stock Exchange quindi nel momento in cui queste dovessero lasciare sul tavolo il 15-20% vorrebbe dire che nel giro di poco che la borsa perde il il 10% solo per loro no? 10-15% solo per loro cioè potrebbero esserci delle botte molto forti e quello potrebbe essere anche un momento di correzione anche per Tesla però qui stiamo nella speculazione più totale io sono noto in finanza non basta capire il trend è decisivo il momento io non ho mai creduto nella guida autonoma e non ho mai comprato azioni Tesla lo dichiaro e ho fatto male perché se le avessi comprate avrei fatto un sacco di soldi perché nel frattempo invece tutti gli altri le hanno comprate i prezzi sono andati su e perché le persone credono che effettivamente si possa verificare questo scenario che secondo me invece non si verificherà però tutti ci credono e il prezzo va su allora io passerei dalle vicissitudini di Masco con il robot tax a Metaglass allora come sapete questi diciamo questi occhialini di Meta hanno avuto un grande successo anche in Italia hanno avuto un risvolto politico nel caso San Giuliano allora a Metaglass è stato chi a Meta è stato chiesto se queste immagini private che finiscono in un grande server Meta se sono utilizzate per l'intelligenza artificiale e Meta ha risposto mi sembra di capire sono affari nostri non rispondo esatto Meta ha detto no ha fatto sono solo fatti miei come sono fatti miei e il fatto è che non sono fatti i suoi sono fatti di tutti perché quando tu hai in giro per strada e c'è qualcuno che ti passa di fianco e ti riprende no e tu magari stai che ne so in un luogo dove non vuoi che far sapere che tu sei davanti a una sinagoga no senza pensare a cose strane e invece queste robe finiscono sui loro server indicizzate catalogate eccetera e sono fatti i tuoi no vai in in una clinica ti riprendono che esci da una clinica che ne so per una patologia particolare e tu non vuoi che che queste cose si sappiano c'è il diritto di startene per i cavoli tuoi e loro hanno risposto cavoli nostri tutte le immagini che tutti gli utenti raccolgono in streaming cioè con un flusso non registrando filmati vengono finiscono sui server di meta e ha chiesto ma li usate per l'intelligenza artificiale e hanno risposto secondo quest'articolo hanno risposto fatti i nostri e no non sono fatti loro ti ricorderai che un paio di settimane fa c'era stato un appello promosso da meta che diceva che vogliamo era cos'era l'Europa ha bisogno di certezza regolamentare per l'intelligenza artificiale sarebbe curioso che uno chiedesse un'incertezza regolamentare vogliamo l'incertezza regolamentare sulle strade una cavolata quindi è pleonastico dire vogliamo la certezza regolamentare e tutto quell'appello firmato poi da persone molto importanti e probabilmente gli hanno raccontato delle cose sbagliate era tutto sull'intelligenza artificiale importante produrrà il 10% di pili in più non si sa se in un giorno una settimana un anno un secolo perché poi le previsioni di Assemoglu è che produca un aumento dello 0,1% in un anno stiamo parlando di intelligenza artificiale generativa era tutto appello così alla fine che cosa chiedeva chiedeva un'interpretazione più moderna della legge sulla privacy e io avevo scritto modestamente un articoletto su affari e finanza in cui dicevo che probabilmente la cosa quello che mi era interessato Meta era di poter utilizzare i dati degli utenti senza chiedere loro il permesso in modo esplicito ovvero basandosi su un permesso già espresso per altre finalità e alla fine quello che è accaduto poco dopo insomma impara darmi ragione nel senso che Meta dice volete sapere se usiamo quella roba lì per fatti nostri non ve lo diciamo che sembra una risposta ripeto non sono fatti loro sono fatti di tutti è proprio un modo sbagliato dell'azienda di porsi nei confronti del regolatore europeo cioè al limite della strafotenza non so come dire ho parlato con degli amici a Bruxelles che mi dicono che in ambito bruxellesese quell'appello è stato preso malissimo perché appunto un'ingerenza ha cavalcato le critiche di Draghi una parte delle critiche del rapporto Draghi decontestualizzandole e finalizzandole a quello che è un loro interesse secondo me ha avuto addirittura un effetto controproducente quell'appello e adesso questa risposta ulteriore in cui dice sono fatti nostri ha ulteriormente peggiorato la situazione cioè secondo me stanno sbagliando una cosa dietro l'altra cioè non puoi pensare perché parlavo anche con un amico che mi diceva eh ma dovremmo trovare un modo per rendere queste cose accettabili in futuro no non sono accettabili non è accettabile che uno riprenda qualunque cosa succeda per strada e poi finisca chissà dove per chissà quale uso non è non è accettabile cioè gli stessi Stati Uniti dicono che non vogliono TikTok perché potrebbe riprendere che non vogliono le macchine cinesi autonome perché potrebbero riprendere e registrare tra l'altro nel codice penale italiano c'è un articolo che che punisce anche se veramente credo l'interferenza nella vita privata tutta questa roba qui prima o poi arrivano al pettine cioè questa cioè la società ci sono alcune cose non tutto quello che la tecnologia ti consente di fare è buono no cioè la palissiano voglio dire l'idea futurista che tutto il futuro è sempre è sempre perfetto va sempre bene e che contrastarlo è futile non è così non è così la storia è piena di cose che abbiamo contrastato perché erano contrarie agli interessi delle società e le società le hanno messi al bando e chi lo fa è un criminale viene punito severamente e ci sono alcune cose che non possono passare il fatto di avere qualcuno che registra qualunque cosa in giro e non sai che cosa ne fa di quelle informazioni non va bene non va bene non è compatibile con i nostri valori quantomeno potrà andare bene in Cina dando tutte le informazioni al partito comunista cinese potrà andare bene nei paesi autoritari non nelle democrazie liberali cambierei argomento è un'altra cosa che ha fatto molto discutere la possibilità di utilizzare lo speed per garantire i minori nell'ambito dell'accesso ai siti pornografici è giusto è giusto farlo ci sarebbe un insomma io pensavo insomma sul fatto che c'è il doppio accesso per esempio tu devi avere anche nell'applicazione delle poste ci sono tutti gli accessi che tu fai con lo speed ai vari ministeri alle cose e andrebbero a finire anche questi accessi è un'esagerazione o è giusto trovare una garanzia in Francia in qualche modo hanno risolto con mai 18 pass che è un sistema diciamo di accredito complesso per entrare dentro i siti pornografici è giusto farlo con lo speed intanto cominciamo col dire che questa non è una cosa solo italiana come giustamente ricordavi tu c'è in Francia ma prima ancora è nata in Texas e ci sono proposte di questo genere in tutti gli Stati Uniti quindi è una cosa adesso non è diffusissima però è abbastanza diffusa allora la prima domanda è mio figlio minore lo faccio accedere o no a dei siti pornografici glielo consento oppure no e credo che qui che questa sia una cosa per la quale solo un genitore possa rispondere per il proprio figlio cioè non alcuni genitori riterranno di sì altri riterranno di no alcuni genitori spiegheranno certe cose altri invece lasceranno totale libertà quindi la domanda in origine essendo una cosa familiare etica non ha una risposta assoluta non ha una risposta assoluta ora la politica decide che questa cosa che questa facoltà vada nelle mani dei genitori i quali genitori possono autorizzare o meno il figlio quindi la condizione di default è che non si può ma che invece si può autorizzare in precedenza senza in assenza di qualunque controllo la posizione di default è che si può appunto e quindi di fatto chi non vuole che il figlio acceda non ha strumenti io penso io da piccolo ho lavorato in un'edicola molti anni fa nell'estate ho lavorato in un'edicola e ricordo che nell'edicola c'erano le riviste che avevano i sacchettini le riviste pornografiche avevano i sacchettini le riviste fustellate sì insomma per non far vedere quello che c'era dietro eccetera e chiaramente in edicola io non li vendevo ai ragazzini però non credo che questo abbia fermato forse ha mitigato la diffusione ma di sicuro non l'ha arrestata tra quelli che avevano qualche anno meno di me all'epoca quindi non so e poi l'efficacia però capisco che alcune famiglie ritengano questo e che quindi uno stato dica sapete cosa c'è invece di essere opt out diventa opt in e l'autorità delle comunicazioni ha predisposto un regolamento sulla base della diciamo di uno schema che sta maturando a livello europeo e quello che si dice è una cosa lo schema di riferimento è uno schema che prevede che ci sia una terza parte fidata che opera da disgiuntore cioè in pratica facciamo finta che tu sei la terza parte fidata io vengo da te e dico sono io queste sono le mie credenziali ho 59 anni e tu mi dai un coupon dove non c'è scritto nessuna informazione mia non c'è scritto che è di Quintarelli c'è scritto solo maggiorenne e io posso spendere questo coupon per andare sul sito il sito non ha nessuna informazione mia tu non sai dove io sto spendendo quel coupon se lo sto spendendo su un gioco d'azzardo o su un sito pornografico quindi in qualche modo la mia privacy è riservata perché tu non sai dove io vado e il sito dove io vado non sa chi sono io per effetto di questa disgiunzione questo richiama una proposta che io avevo fatto nel 2017 è agli atti perché si può vedere che era una delega al governo per una protezione dell'anonimato online che io lo prevedevo come diritto delle persone da poter usare su tutti i siti cioè io voglio poter andare su un social criticare il potente di turno senza dover necessariamente dare dei dati che mi espongano perché poi dei dati che espongono alla fine lo sappiamo che se ti vogliono beccare ti beccano quindi io l'avevo pensato come una cosa una cosa generale è chiaro che qui se lo facciamo solo per i siti pornografici va da sé che se io chiedo quel token quel gettone e tu mi dai quel gettone tu puoi capire benissimo che io sto guardando un sito pornografico se lo facciamo anche per le scommesse è già un po' meglio se lo facciamo per gli e-commerce è ancora meglio nel senso che a quel punto tu non puoi proprio sapere per che cosa lo spendo cioè ci possono essere ci possono essere degli usi che si possono aumentare in modo tale da essere totalmente garanti della privacy io voglio consentire dei ragazzini che non hanno la carta di credito di fare degli acquisti online e mi invento uno strumento che dà a loro la possibilità di comprare le cose online però in modo con questa protezione dell'anonimato per poter evitare di essere tracciati e tacciati ad esempio se comprano una minorà o altro o qualcos'altro che potrebbe un domani inguaiarli per cui insomma io l'avevo pensato come misura di garanzia e come meccanismo per risolvere il fatto l'identità della persona nel momento in cui questa persona dovesse commettere un reato perché a quel punto le forze dell'ordine sull'ordine tribunale vengono da te vanno dal sito e gli dice chi è che ha commesso questo reato il gettone X14 vengono da te e ti dicono il gettone X14 a chi l'hai dato tu gli dici fammi vedere l'ordine del giudice e c'è l'ordine del giudice e gli ho dato a Quintarelli e Quintarelli è quello che ha commesso il reato quindi per tirare le fila è un argomento complesso lo schema di riferimento messo in piedi dall'autorità non riguarda solo l'identità digitale riguarda anche altri modi di stabilire la maggiore età prevede questa protezione dell'anonimato che è un fatto positivo è ancora più positivo se paradossalmente si è esteso ad altri servizi e non solo alla pornografia credo che sia una tendenza inevitabile perché questa cosa sta spuntando come funghi in varie parti del mondo capisco l'esigenza di alcuni genitori e quindi la necessità di dibattito parlamentare eccetera di formazione di una decisione su questi temi è un tema complicato non si può risolvere in una battuta l'esigenza da una parte consistente della popolazione c'è la politica se ne occupa stabilisce un meccanismo il meccanismo non è dimmi chi sei che sarebbe invasivo della privacy e di nuovo farebbe il gioco dei governi autoritari ma è un meccanismo messo in piedi che prevede un'architettura che è intrinsecamente garantista e protettrice dell'anonimato quindi se lo dobbiamo fare questo è il modo giusto di farlo e non riguarda solo speed appunto riguarda tanto altro tema molto complicato comunque vedremo che cosa combineranno su questo e come si muoverà anche la Gcom oltre che il legislatore io passerei dallo speed al cugino dello speed che è l'APIO che fa passi avanti per quanto riguarda la previdenza sociale noi adesso sappiamo che nell'APIO finirà il certificato di malattia elettronica la villa appunto con la relativa notifica e anche le visite le visite di di controllo poi tutto questo dovrà passare su IT wallet l'Inps ha comunicato questa cosa però ha detto per arrivare al regime ci vorrà ancora un po' perché come tutte le cose ha bisogno di un rotaggio per poi andare a finire in IT wallet allora è un grande passo avanti oppure un rischio in più no non lo vedo che non rischio in più è un passo avanti è un passo avanti e immagino visto che la regolamentazione europea prevede una moltiplicità cioè prevede che andando avanti si vada verso il portafoglio digitale dove queste attestazioni vengono messe e prevede il fatto che una molteplicità di soggetti possa gestire questi portafogli possa produrre questi portafogli digitali e questa stessa cosa mi aspetto che finirà all'interno dell'app delle poste dell'app dei vari identity provider insomma di Namiria Laruba InfoCert Selt chi più ne ha più ne metta diciamo è il frutto normale dell'evoluzione della digitalizzazione resa possibile abilitato dall'identità digitale l'identità digitale è la base di tutto questa roba adesso comincia sull'app io e finirà all'interno del wallet all'interno di tutti i wallet è un passo importante perché riguarda un sacco di persone non è un cambio di paradigma è una normale evoluzione allora quindi siamo tutto normale allora io volevo chiederti se è normale anche la proposta di legge sul diritto alla disconnessione da dopo il covid abbiamo diciamo sperimentato nel mondo del lavoro lo smart working che secondo molti è stata un'innovazione secondo altri è stato un modo per nascondersi dal lavoro questo smart working ha imposto anche delle nuove regole su come e quando si debba lavorare se io devo fare una cosa fuori dall'orario di lavoro quando comincia quando finisce il mio orario di lavoro non è la prima volta che ci trovano la scorsa settimana il PD ha presentato una proposta di legge con credo prima firmataria l'onorevole Gribaudo e Arturo Scotto del Partito Democratico hanno fatto bene? ma allora intanto io credo che di nuovo anche questo è un tema abbastanza complicato ma una volta una volta il il tempo era scandito dai tempi agricoli quindi lavoravi quando c'era il sole poi quando non c'era più il sole magari alcune cose le facevi a casa ma i tuoi tempi di lavoro erano scanditi da quello e non è che c'era sabato domenica cioè sì c'erano sabato e domenica però diciamo la miriade di piccoli agricoltori italiani e sabato e domenica le vacche da mungere c'erano lo stesso cioè poi l'evoluzione ci ha portato l'industrializzazione l'urbanizzazione ci ha portato alla contingentazione dei tempi e quindi il fatto di andare in ufficio alla mattina uscire la sera al commuting vai avanti e indietro e poi è arrivata la tecnologia che ti dice sai cosa c'è invece di andare in ufficio buona parte del lavoro la puoi fare da casa naturalmente tutti questi cambiamenti sono stati occupati sono stati non occupati accompagnati da un'evoluzione della nostra delle nostre norme e delle nostre del modo di con cui noi ci rapportiamo alle attività banalmente l'immersione dell'inizio dei sindacati welfare eccetera che erano cose che prima non c'erano che sono venute dal telaio in poi quindi la sto prendendo un po' lunga però per dire che il rapporto tra gli individui e il lavoro cambia nel tempo ed è legato all'evoluzione della tecnologia e anche adesso è ovvio che cambia perché lavoriamo da casa l'idea che l'idea che trasliamo le pratiche dell'ufficio in casa non funzionano banalmente perché il fatto di lavorare in casa pone dei problemi diversi lo spazio per poter lavorare la compatibilità con la vita familiare eccetera e abbiamo bisogno quindi di imparare e poi dobbiamo imparare noi a rapportarci e non lavorare 18 ore al giorno per il fatto che il luogo di lavoro e il luogo di abitazione coincidono credo allora il diritto alla disconnessione se non ricordo male è nato per la prima volta in Francia nel 2016 e se non ricordo male una proposta di legge o un emendamento per il diritto alla disconnessione è stato proposto durante il governo Renzi chi era il ministro del lavoro durante il governo Renzi? il ministro del lavoro faccio un'indagine te lo dico intanto continua no e quindi è un tema che è nato in Francia per le aziende dai 50 dipendenti dai 50 dipendenti in su ed è stato un adattamento prima del covid credo che quella che quella legge che fu approvata se non ricordo male al senato all'epoca io ero con l'intergruppo parlamentare e seguivo moltissimi Giuliano Poletti era Poletti credo che fosse un'iniziativa di Poletti ed era una cosa appunto che seguivo tantissimo con molto da vicino seguivamo con l'intergruppo innovazione e credo che poi però non non sia arrivata in fondo quella proposta del governo Renzi e mi sembra che invece sia entrata nell'ordinamento in Italia successivamente durante il covid per le pubbliche amministrazioni quindi credo proprio che oggi il lavoro della pubblica amministrazione preveda il diritto alla disconnessione nella pubblica amministrazione adesso si tratta di si tratta di di estenderlo anche alle altre aziende qui il taglio è le aziende dai 15 dipendenti in su in questa proposta prevedere il fatto che le persone abbiano dei turni di riposo non sono cose sbagliate peraltro gli eccessi in realtà già oggi sarebbero se io lavoro invece di lavorare le ore che ho previsto nel mio contratto nel lavoro è doppio e sarebbe già previsto il fatto degli straordinari il problema che vedo qui nell'applicazione di questo è come andare cioè il confine che c'è tra la sorveglianza del lavoro e la verifica che il diritto del lavoratore sia rispettato cioè se diciamo che non deve guardare la mail dopo le 18 no tutto a caso poi devo verificare che non vado a guardare la mail dopo le 18 e come faccio però se vado a guardare sto andando a controllare la sua attività lavorativa e se per caso quella invece è uno straordinario insomma è il rapporto di nuovo tra il diritto che è giusto e la privacy molte aziende hanno già incorporato queste cose all'interno delle loro pratiche ci sono aziende che non non mandano messaggi ai collaboratori oltre certi orari va anche detto che dall'altra parte però c'è la flessibilità perché la flessibilità guadagnata cioè io potrei voler lavorare invece in orari extra lavorativi e durante il periodo il momento lavorativo andare in piscina o in palestra no cosa che fanno tantissimi tantissimi approfittano del fatto che alle 11 la palestra la piscina è vuota e vanno in piscina alle 11 e poi magari lavorano alla sera alle 11 cioè bisogna stare attenti anche a a a non a non buttare a non buttare l'acqua e il bambino insomma comunque bene bene che ci sia una proposta di lavoro che se ne di legge che se ne discuta vedremo io stavo sfogliando vedremo il dibattito parlamentare che cosa arriverà in termini di coniugare la libertà della persona il controllo dell'attività eccetera perché questa sarà la parte la parte critica intanto stavo sfogliando il pdf del libro costruire il domani che nel 2016 regalai a tutti i parlamentari in cui avevo un pezzo che diceva che una sezione un capitoletto che era il futuro del lavoro ed è curioso come queste cose sono venute e dicevo se questo è generalmente percepito come un fatto negativo da una cultura diffusa orientata al posto fisso non è necessariamente per le nuove generazioni perché queste modalità consentono al lavoratore di disporre di maggiore flessibilità di poter lavorare per più clienti potenzialmente svolgendo un'attività più varia e con maggiori guadagni per esempio per gli studenti questa flessibilità può essere interessante laddove un rapporto di lavoro regolare e con un rapporto regolare possono acquisire esperienze curricularmente importanti senza perdere lo status di studenti a tempo pieno non è sempre così ovviamente ma per alcune persone queste forme di lavoro possono essere un vantaggio si tratta di contemperare esigenze diverse c'è anche questo fatto comunque che è rilevante il lavoro da remoto rende permeabili le pareti delle aziende cioè la digitalizzazione rende permeabili le pareti delle aziende le persone che stanno remote possono lavorare per più aziende quindi in qualche modo questa possibilità si porta dietro anche una maggiore flessibilità dell'occupazione e anche su questo è un tema che va osservato quantomeno e valutato nel tempo allora io volevo toccare un argomento che abbiamo affrontato già diverse volte che è quello di piracy shield il nuovo sistema per diciamo bloccare i siti che trasmettono contenuti protetti da diritto d'autore cioè coloro che si occupano di che trasmettano abusivamente delle delle trasmissioni che sarebbero diritto di altri c'è stato un regolamento a Gcom che però è diventato è diventato anche legge perché nel decreto omnibus sono state inserite delle norme che lo trasformano in una legge ci sono stati problemi perché i siti bloccati che vengono utilizzati anche abusivamente per queste trasmissioni poi vengono bloccati per sempre e poi le procure sono intasate di tutte queste denunce per violazione di diritto d'autore adesso che succede siamo veramente nel caos statunale guarda intanto ci hanno detto che con Piracy Shield si risolveva un enorme problema che valeva 300 milioni poi 700 milioni all'anno che voleva dire 9 mila posti di lavoro in più eccetera ed è arrivato un Piracy Shield io all'epoca avevo detto guardate che questo non risolve e in effetti non ha risolto non è risolto tant'è che adesso serve un Piracy Shield 2 sembra 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 una serie ma anche questo non risolverà lo possiamo già mettere per iscritto anche questa evoluzione ulteriormente draconiana perché quello non ha funzionato e nota bene ci hanno detto che aveva funzionato alla grande dopo adesso abbiamo oscurato 127 milioni di siti il problema è che tu puoi anche oscurare tutti i siti che vuoi ma se quelli che restano non oscurati sono sufficienti per le persone che sono interessate ad andare ad accedere a quelli oscurano il 90% ma gli utenti trovano sempre l'altro 10 e dire oscurato grande successo oscurato N.Mila City come dire grande successo ho tolto tutte le macchine parcheggiate da questa strada poi giri l'angolo e c'è la strada con le macchine parcheggiate sul marciapiede e non è che risolvi il problema il problema del divieto di Sosta ora adesso quindi nonostante ci abbiamo detto che era dato e mi dispiace perché il problema è il contrasto alla piratteria ben inteso io non sono una progetta della piratteria il problema è il contrasto alla piratteria è un problema molto serio ok quindi va risolto il mio punto è che in questo momento stanno cercando di risolverlo prendendo il toro per la coda e non per le corna perché per prendere il toro per le corna bisogna fare investimenti lato erogazione dei contenuti non prendersela col postino che ti porta i contenuti fino a casa e dire devi controllare tutto quello che passa adesso hanno reso le norme ancora più draconiane la norma in precedenza vale la pena di spenderci un minimo di tempo la norma in precedenza diceva che potevano essere filtrati gli indirizzi IP cioè il numero che identifica ogni sito ogni calcolatore su internet dei server che usavano che erano usati esclusivamente per attività illecite questo perché perché come sa chiunque abbia un sito sullo stesso server possono convivere moltissimi siti spesso e volentieri i siti dei pirati sono ospitati su indirizzi IP che contengono centinaia migliaia di siti in modalità tecniche diverse e quindi questo fatto di dire univocamente l'indirizzo IP doveva indirizzare univocamente un server illecito serviva a garantire le altre migliaia di siti illeciti adesso la legge cambia e dice che deve un sito l'indirizzo IP che sia prevalentemente destinato ad attività illecite quindi non deve essere più necessariamente solo si accettano le vittime gli effetti collaterali prevalentemente rispetto a quale criterio se io ho un server dove c'è un sito pirata e ce ne sono 999 legittimi è prevalente o no se quel sito pirata fa 10 volte o 100 volte il traffico degli altri 999 che magari sono siti di dentisti è prevalente o no è prevalente rispetto a cosa e poi ancora monte non esiste un modo tecnico per sapere che cosa c'è su un sito su un indirizzo IP dove c'è un sito pirata oltre a quel sito pirata non c'è ci sono possono fare delle stime ma un modo per sapere con certezza che cosa c'è oltre a quel sito pirata non c'è quindi il fatto di dire prevalentemente sembra un cambiamento da poco ma cambia tantissimo perché vuol dire basta che ci sia un sito pirata tiro giù il sito pirata e tutti gli altri che sono sullo stesso server e chi se ne frega cioè ed è già successo non è che non è successo è successo diverse volte l'ha detto anche il presidente dell'autorità delle comunicazioni la sorella in audizione alla camera che è successo sono intervenuti rapidamente perché qualcuno li ha avvertiti e questo è un primo grosso cambiamento dopodiché dicono tutti quelli che forniscono servizi che possono essere usati per aggirare i divieti devono adottare le regole date dall'autorità delle comunicazioni questo nonché i fornitori di servizi di PN e quelli di DNS pubblicamente disponibili ovunque residenti e ovunque localizzati cioè il fornitore di un servizio DNS coreano che manco sa che esiste l'Italia o texano che manco sa che esiste l'Italia perché nel Texas c'è gente che magari deve fare quello che dice l'autorità delle comunicazioni ma dico ma ci rendiamo conto dell'assurdità di questa cosa? Cioè quanti sono i server DNS al mondo? Quanti sono i server DNS al mondo? i server DNS sono milioni sono milioni e se tu cerchi server DNS pubblici col tuo motore di ricerca preferito lista di server DNS pubblici trovi dei siti che ne elencano a centinaia di migliaia e quindi cioè tutte queste centinaia di migliaia ripeto il sito il DNS usbeco deve fare quello che dice l'autorità delle comunicazioni italiane proprio cioè non lo so dopodiché dopodiché vabbè ci sono anche delle migliorie perché prima una volta che un indirizzo veniva cancellato era cancellato a vita adesso invece si può riabilitare però anche lì hanno fatto una roba giusta ma l'hanno fatta nel modo sbagliato perché dice che a riabilitarlo può essere dei soggetti che non hanno modo di verificare se è riabilitabile oppure no cioè non c'è una decisione di un giudice o che o vabbè però lasciamo perdere poi naturalmente tutte queste robe devono accadere entro 30 minuti da tutti gli operatori in tutto il mondo scusa se rido poi dicono allora loro ce l'hanno in parte con Cloudflare che è un servizio che che ospita che offre servizi di sicurezza e di content delivery eccetera comunque diciamo è un servizio molto usato da centinaia di migliaia in Italia di soggetti legittimi e anche da qualche pirata e i pirati si nascondono dietro è un po' come i terroristi che si nascondono sotto gli ospedali se vogliamo purtroppo imparavano quindi si nascondono dietro questo e l'autorità delle comunicazioni dice a questa azienda Cloudflare tu mi devi dare i dati di questi qua in tempo reale devi bloccarli Cloudflare che è un'azienda tutto sommato non gigantesca che gestisce milioni di clienti nel mondo e non è basata in Italia naturalmente non ha nessun motivo di obbedire all'autorità delle comunicazioni per cui adesso introducono un'altra perla che dice che i soggetti che non sono stabiliti nell'Unione Europea e poi ti dico perché quelli che non sono stabiliti nell'Unione Europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto notificando all'autorità delle comunicazioni il nome l'indirizzo postale l'indirizzo di posta elettronica di una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e che consente di comunicare direttamente per via elettronica con l'autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge cioè un soggetto che non è stabilito in Italia il fornitore di DNS usbeco deve nominare un rappresentante in Italia e comunicarlo perché deve fare questo? perché poi c'è la perla delle perle e la perla delle perle è che le omissioni delle segnalazioni sono punite con la reclusione fino a un anno quindi hanno bisogno di avere una persona fisica che poi non si capisce da parte di chi cioè la reclusione di chi fino a un anno fuori dai casi nel concorso di reato le omissioni della segnalazione di cui è il comma 1 e la comunicazione di cui è il comma 2 sono unite con la reclusione non si sa di chi si presume del legale rappresentante o della persona notificata fino ad un anno è giuridicamente scritto veramente male ora perché fuori dall'unione europea perché c'è stata una sentenza perché sono solo le aziende i fornitori di servizi accessibili in Italia fornitori usbeco che tu paghi con la carta di credito perché è fuori dall'unione europea perché c'è stata una decisione della corte europea di giustizia la prima versione della legge diceva tutti quelli che stanno fuori dall'Italia poi qualcuno gli ha fatto notare che c'è stata una decisione della corte europea di giustizia che diceva che non possono essere che uno stato non è titolato a mettere degli obblighi ai fornitori di altro paese europeo per cui loro non hanno non hanno tolto l'obbligo l'hanno messo solo per quelli che stanno fuori dall'Europa quindi per lo sbecco della situazione e tu come fai sapere che lo sbecco non ha una sede o una stabile organizzazione in Lituania ad esempio non lo puoi sapere cioè hanno introdotto delle regole draconiane che prevedono la reclusione fino a un anno di non si sa chi e il fatto di poter tirare giù con la motosega interi alberi di siti leciti perché ce n'è uno illecito una norma che non è che non è applicabile che non è applicabile che dà la discrezionalità per andare a colpire chi vuoi quando vuoi eccetera però poi ci saranno gli appelli e si arriverà al fatto che sta norma qui che sta norma qui non funziona quindi come all'epoca ti dissi Piracy Shield non funziona è il toro preso per la coda adesso ti dico Piracy Shield 2 non funziona stiamo cercando di prendere di nuovo il toro per la coda il toro per le corna va fatto con investimenti da parte di chi eroga i contenuti per proteggere i contenuti in un modo opportuno e non cercando di fare perché poi tutta questa roba qui chi è che la paga? la pagano gli operatori gli internet provider che devono fare queste cose cioè paradossalmente quelli che rischiano di più sono tutti gli operatori perché poi le notifiche per cui puoi essere recluso fino a un anno sono quelle per accesso abusivo al sistema informatico per violazione del diritto d'autore e per frode informatica e per frode informatica quindi concettualmente ogni operatore e chi ha la notizia che l'operatore che ha notizia che sui suoi sistemi ci sia uno di questi tre reati di queste tre tipologie di reato lo deve comunicare all'autorità delle comunicazioni ora se ti vendono una crema per l'aumento delle prestazioni virili è evidentemente via mail è evidentemente una frode è evidentemente una frode quindi tecnicamente un operatore quando riceve una mail di quel genere quando sa che dovrebbe notificarlo all'autorità delle comunicazioni per ogni mail di spam che riceviamo ma di che cosa stiamo parlando cioè veramente scusa se mi accaloro ma è veramente un provvedimento scritto male che va e non risolverà mi dispiace non risolverà è giusto il problema è giusto e tutti i problemi ammettono una soluzione semplice facile elegante e sbagliata questa è una cosa che non è né semplice né elegante ma che è sbagliata allora io mi occuperei per non dilungarci troppo di due ultimi argomenti uno è diciamo il procedimento giudiziario nei confronti di Google negli Stati Uniti per abuso di posizione dominante che si sta veramente mettendo male per Google perché addirittura la giustizia il dipartimento della giustizia americano propone addirittura di smantellare Google che cosa sta succedendo beh diciamo abbiamo parlato più volte di tutte le magagne antitrust che ha Google negli Stati Uniti dal mio punto di vista essendomi studiato le carte posso dire che sono fondate secondo me c'è una cosa che manca importante e qui diciamo che il fatto nuovo è che apparentemente il dipartimento di giustizia giudice stanno considerando dei rimedi strutturali che potrebbero essere la separazione del browser Chrome cioè la scorpo del pezzo di società che si occupa del browser Chrome del Play Store cioè dello store applicativo e di Android secondo me manca una parte importante che adesso poi ti dico la separazione del business di Chrome è importantissima perché Chrome non è un business perché Google con Chrome non guadagna quindi è di fatto una spesa che gli serve a cosa? a mantenere il controllo dei browser in modo tale che non ci sia nessuno che introduce nei browser delle tecniche che possono minacciare i suoi business model ad esempio tecniche per la rimozione della pubblicità per evitare il tracciamento eccetera che oggi nei browser diciamo non sono nativamente disponibili faccio un esempio nel Chrome Store che è diciamo quel sito dove si possono aggiungere componenti aggiuntivi su Chrome non ci sono i componenti aggiuntivi che servono a scaricare i video da YouTube questo non è illecito perché la legge sul diritto d'autore prevede che se uno si fa una copia personale se lo deve poter fare a meno che il contenuto non sia protetto con degli strumenti tecnici che su YouTube non ci sono e non ci sono per una questione di diffusione per diffonderli a tanto non ci sono strumenti tecnici di protezione e quindi io ho il diritto di scaricarlo e quindi io dovrei poter avere l'accesso allo strumento ma questo naturalmente non piace a YouTube che è sempre di Google e quindi Google vieta nel Chrome Store che ci siano questi componenti aggiuntivi che poi esistono da altre parti che puoi trovarti da altre parti e però per dire Google non fa soldi con Chrome ma controlla l'ambiente per evitare che succedano cose che a loro non piacciono come ad esempio questa questo è un esempio ma poi in ambito di pubblicità profilazione eccetera ce ne sono altri molto tecnici e molti altri quindi quella separazione di Google Chrome sarebbe veramente importante perché potrebbe minacciare alcune delle basi a tendere tecnologiche sulle quali loro costruiscono buona parte della loro dominanza e del loro modello di business dopodiché secondo me ne manca una cosa rilevante oggi quando tu fai un'inserzione su Google tu dai dei soldi a Google per partecipare a delle aste e poi chi si aggiudica l'asta pubblica l'inserzione e tu non lo sai perché non hai modo di sapere se l'inserzione è stata pubblicata tu semplicemente stai dando dei soldi a Google Google esegue l'asta ti dice te la sei aggiudicata abbiamo mostrato la tua inserzione cento volte mi paghi i tot dollari è un po' come se uno entrasse se un cieco entrasse in un'osteria desse dei soldi all'oste l'oste gli dicesse con questi soldi puoi comprare quattro bicchieri di vermentino e dopo un po' ti dice ho bevuto i quattro bicchieri di vermentino ed era buono c'è una totale opacità del processo nelle carte dell'antitrust si è visto che quello che ripetutamente Google aveva presentato come sistema di aste in realtà era un meccanismo di formazione di decisione delle vendite molto arbitrario sicuramente non aste io anche qui in lo tempo avevo fatto una proposta diceva chi bandisce l'asta non può essere lo stesso che ti vende la merce e non puoi neanche sapere se poi quella merce è stata venduta per cui nella mia proposta di legge dicevo bisognava scorporare quella parte di gestione delle aste questa cosa non è nei rimedi attualmente previsti da quello che si legge però sarebbe da mio punto di vista sarebbe importante che lo fosse per dare trasparenza al mercato qualcuno di Google se non ricordo male ho letto da qualche parte che qualcuno di Google diceva che è come se Goldman Sachs possedesse o un'altra banca possedesse la borsa di New York cioè queste cose non le ammettiamo in finanza però qui invece sono totalmente concesse allora l'ultima l'ultimo argomento che voglio toccare è un argomento che chissà quante volte ci è stato consigliato cioè in passato quando accedevo al mio conto corrente in banca la banca mi chiedeva cambia frequentemente password adesso a quanto pare NIST che è la società che si occupa o l'istituzione che si occupa della sicurezza informatica negli Stati Uniti consiglia di non cambiare password di non affidarsi ai generatori di password e addirittura non fare distinzioni tra maiuscole e minuscole allora il consiglio di NIST è giusto? non cambiare password di non cambiare sì sì allora allora il fatto di il MIST è il National Institute for Science and Technology che da sempre mette delle linee guida in materia di sicurezza e in un periodo iniziale in cui le persone non sapevano gestirsi le proprie password e che non c'erano i gestori di password aveva raccomandato di fare delle password con dentro le tre maiuscole minuscole simboli numeri e tutte quelle rotture di scatole che ci troviamo noi per fare sì che usiamo una password sicura per fare in modo tutti i siti dove ci registriamo ci chiedono di fare una password così per fare in modo che la password sia più facilmente più difficilmente individuabile rispetto a PIP 1 2 3 quindi facciamo PIP con la P maiuscola 1 2 3 punto esclamativo poi cosa succede che diventano difficili per le persone per ricordarsele per cui alla fine finiscono sui post attaccati sui monitor o sulle rubriche cartacee dove uno apre e tira fuori o magari in un telefonino e naturalmente diciamo l'anello più debole nei sistemi informatici è sempre quello che c'è tra il monitor e lo schienale del sedile della sedia cioè è l'umano e la gestione delle password è la prima cosa quindi la prima regola di buona regola di comportamento è usare un gestore di password cos'è un gestore di password? è un'applicazione dove tu metti dentro la tua password per ogni sito ogni sito ha la password diversa e dopo di che quando tu vai su quel sito è il gestore che ti mette che ti incolla direttamente la password non l'utente la password nel sito in modo tale che tu puoi entrare facilmente e non devi ricordarti la password e puoi avere quindi una password diversa per ogni servizio naturalmente ce ne sono di diversi tipi piuttosto di non usarli tutti tutti i gestori di qualunque gestore di password è meglio di nessuna password di nessun gestore di password poi ci sono alcuni gestori che sono più robusti più da nerd che altri nell'arco io uso un gestore di password credo da 15 anni e la quantità di siti a cui ti registri è impressionante e se usi sempre la stessa password o un cme limitato di password alla fine quella password da qualche parte viene memorizzata e bada bene che era stato trovato che anche Facebook all'inizio se non ricordo male era stato trovato che anche Facebook memorizzava password degli utenti in chiaro all'interno dei propri database poi alla fine le password finiscono nel dark web vengono vendute insomma quindi usare password diverse per ogni sito e mettere in un gestore di password è la cosa giusta da fare dopodiché non usiamo dei generatori di password quello che dice il NIST è esattamente questo di usare dei generatori di password i generatori di password tutti i gestori di password hanno una funzione di generazione dove tu dici voglio una password lunga 37 caratteri che usa maiuscole minuscole e simboli e ti viene fuori una roba totalmente casuale e io non me la ricorderò mai dopodiché questa password sta all'interno del mio gestore il gestore è sincronizzato tra telefono e tutti i vari computer io ho una password sola con cui sblocco il gestore apro questo scrigno e a questo punto uso tutte le password le password diverse che io non so neanche quale sono ripeto uso un gestore di password da decenni ormai nel quale c'è tutta la storia dei siti a cui mi sono registrato sto guardando adesso sono 694 siti a cui a cui mi sono registrato una password tipica generata in automatico è 6V1 M maiuscolo 5L maiuscolo minuscolo QH3 maiuscolo I7B minuscolo D maiuscolo cioè roba che non ha senso dopodiché qualche password ce la dobbiamo ricordare vuoi ad esempio la password di inizio di avvio del computer la password per sbloccare il gestore di password che naturalmente possiamo anche sbloccare con le impronte digitali eccetera se vogliamo però una password ce la dobbiamo ricordare e qui viene il consiglio su come generare una password efficace io ho credo tre o quattro password principali che mi ricordo a mente con le quali sblocco diverse situazioni il computer il telefono eccetera e la password che uso e le password che uso sono indirizzi indirizzi di luoghi ad esempio il non so il ministero dello sviluppo economico anzi il ministero per l'industria made in Italy sta in via Vittorio Veneto 14 a Roma ecco se io prendo ad esempio tutte le lettere dispari di via Vittorio Veneto 14 a Roma ottengo una stringa che chi lo vede ottengo una sequenza di caratteri che chi la vede non è capace di 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 immaginarla no adesso sarebbe V A I V maiuscola A I minuscola viene fuori una roba che a chi la vede non ha nessun senso però noi ce lo ricordiamo perché via Vittorio Veneto 14 Roma o 00 185 quello che è Roma usare gli indirizzi con una procedura per estrarre le lettere dall'indirizzo è una buona pratica per costruire delle password che noi non dobbiamo ricordarci perché ci basta ricordare il ministero dell'industria e questo è un trucchettino che lasciamo agli ascoltatori bene grazie come sempre a Stefano Quintarelli per la settimana informatica un saluto a tutti